Eccoci ragazzi, ciao a tutti, spero che questa prima diretta riusciamo a partecipare in tanti così per parlare un po' di quello che sono stati questi giorni che ci hanno un po' separato. Intanto come state raga? Eccovi, eccovi, vi state insomma collegando, amore mio Mario Matonti, grazie, fantastico, ciao a tutti E allora ragazzi, come va? Aspettiamo un po' che vi collegate un po'? Come state? Come sta iniziando la vostra estate? La mia abbastanza bene, abbastanza ricca di positività, di sole e quant'altro. Io inizierei questa diretta, questa mia prima diretta che è veramente un evento anche per me, ragazzi, sono infatti molto felice allo stesso tempo emozionata, però molto felice di questa prima diretta. Io vorrei iniziare intanto col dirvi 200.000 al quadrato grazie, grazie perché grazie a voi questa pagina non ho mai smesso di crescere e insomma è una grande soddisfazione in questi anni poter vantare insomma di nuovo di questi 200.000 mi piace e io di questo devo ringraziare esclusivamente voi che nutrite questa pagina e poi il mio grazie speciale va a voi in quanto avete permesso a Luce Infinita di essere un album veramente puro e insomma lo avete arricchito con la vostra presenza ma soprattutto con la vostra attesa io vi ringrazio di tutto quello che avete fatto e che fate. Luce Infinita è stata sicuramente una bellissima avventura una bellissima sfida che ci ha, a mio modesto parere, che abbiamo superato in pieno. detto questo il mio rapporto con Isola degli Artisti di Avarello è terminato ufficialmente il 7 di giugno cosa dire in merito a questo? Sicuramente è stato un po' un dolore aver fatto questa scelta ma penso che sia per me in quanto per l'etichetta Isola degli Artisti sia stata una scelta che ci permette a tutti e due di guardare sempre la musica con i nostri punti di vista e con le nostre scelte che sicuramente saranno più adeguate alle nostre esigenze, mettiamola così. Però è stata un'esperienza che sicuramente mi ha fatto tanto crescere mi ha messo alla prova e credo veramente col cuore, ve lo dico, di aver veramente dato tanto a questo progetto però nonostante questo rapporto sia terminato io non mi fermo, anzi sono più determinata di prima nell'andare avanti, nel cercare sicuramente la serenità giusta per poter dare inizio a nuovi progetti io non smetto mai, non smetto mai col cuore di dirvi grazie, grazie per quello che avete fatto per me e per l'album avete fatto sicuramente come sempre la differenza Luce Infinita è sicuramente una bellissima partenza già il titolo è un titolo importante, un titolo che insomma dà la prospettiva di quello che è l'ottimismo nell'andare avanti detto questo è una luce infinita che sicuramente sta dentro di me e non smetterà mai perché l'amore per la musica per me è qualcosa che non potrà mai, 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 dico mai, finire appunto per questo sono sempre più determinata ad andare avanti con coraggio e con amore per quello che faccio sicuramente ci saranno molte domande che voi vi state facendo del perché e del non perché ragazzi sono situazioni e sono dinamiche che si evolvono e come diciamo sicuramente avrei preferito una fine più lunga però non abbiate, come dire, rimorsi oppure ripensamenti per quello che si è fatto perché vi assicuro che insieme abbiamo fatto tanto abbiamo fatto tanto e adesso siamo secondo me più forti e più pronti per andare avanti verso nuovi progetti e verso sempre la musica cosa dirvi ancora? non smettete mai di credere in quelli che sono comunque le nostre passioni in questo caso per me la musica è la passione più grande che mi ha sempre dato la bellezza della vita e mi ha fatto sempre vedere la vita con un'ottica differente e quindi non può arrestarsi così una grande passione ci tengo a dirvi con tutta veramente sincerità che l'incidente che io ho avuto è stato un incidente, lo voglio descrivere come una hit parade è stato un evento, è stato un evento ed è stato il disco rivelazione della mia vita perché grazie a questo ho potuto capire molte cose che magari in altre situazioni non puoi capire e per questo io mi sento arricchita mi sento arricchita e mi sento prontissima per andare avanti per portare sempre in alto il valore della musica che insomma come ho detto tante volte mi ha sempre salvata e mi ha dato sempre quella forza in più ringrazio tutti voi, ringrazio sicuramente la mia famiglia in particolare mia mamma che mi ha dato sempre veramente quella forza e quella determinazione, quella pulizia insomma non giudicandomi per farmi andare avanti per darmi quell'apporto sincero di una mamma detto questo, non lo so, vediamo un po' adesso leggiamo un po' di vostri commenti allora, Adele, ciao vita mia, saremo sempre con te Isabella, noi saremo con te sempre e comunque Gianna mi manda dei fiori Dina, Ugo, tu sei ancora qui e ne ho ancora qui con te non dimenticare, continueremo ad esserci poi, l'ho rispesso, gli eventi negativi aiutano molto di più e infatti aiutano molto di più perché ti fanno capire veramente la forza interiore che hai e devo dire una cosa grandissima ed immensa ringrazio veramente il Signore, Dio perché ogni giorno ha fatto della mia vita un capolavoro ogni giorno è un evento, ogni giorno è una rinascita quindi possiamo solo che migliorare possiamo solo che andare avanti e mi raccomando, quando ci sono persone che vi dicono ah non potete fare qualcosa oppure sarà difficile oppure vi scoraggiano non perdete mai quella determinazione perché se voi sentite di fare qualcosa è perché voi dovete farla, non altri quindi non facciamoci indebolire da stupide considerazioni che non fanno parte di noi stessi allora potrai cantare le canzoni di Luce Infinita? ecco queste domande sono sempre un po' così stupide però naturalmente c'è un lavoro ci sono delle canzoni naturalmente Nuovi Giorni da Vivere il pezzo che abbiamo sentito, abbiamo amato con un video molto importante sicuramente Nuovi Giorni da Vivere sarà una delle canzoni di quest'estate mi sono dimenticata stavo dicendo una cosa va bene, mi sono distratta poi tanti cuori ecco la tua musica è la nostra forza e non possiamo fare a meno di ascoltarti ogni giorno grazie poi Roberto ti vogliamo tutti bene ti aspettiamo ciao dall'Albania ah grazie Grimal Giochi salutami ciao Grimal Ida Occhicello sei meravigliosa Palagnello ciao Grimal ancora Cristina sei sempre il nostro spettacolo più bello grazie anche voi anche voi siete la mia colonna sonora e niente io sono molto felice di aver fatto questa diretta con voi grazie perché veramente avete raggiunto tanti 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 insomma tanti posti e tanti cuori in questa diretta è nulla io continuerei col salutarvi e col dirvi che ci vediamo presto ci vediamo presto perché la musica è parte di me io sarò parte della musica e ci vediamo quest'estate sicuramente con qualche evento che presto sarò felice di comunicare perché il lavoro è qualcosa di meraviglioso e quando diciamo il lavoro può essere qualcosa che è innato dentro di te è ancora più meraviglioso ancora più straordinario quindi viva la musica it's ok this is ok voi siete i miei ok fin dall'inizio vi abbraccio fortissimo vi auguro una buona giornata allora Valeria carissima Loretana vai al di là e si Valeria al di là di tutto ci insegna a migliorare a sostenerci si, si è vero tutto serve tutto è importante perché la nostra vita abbia una forma e perché noi possiamo camminare con tutta la consapevolezza che la vita è meravigliosa e va vissuta per quella che è sempre non perdendo mai l'occasione e la possibilità di migliorarsi sempre vi ringrazio col cuore vi vi stringo forte e vi mando un bacione grandissimo siete la mia forza raga un bacio it's ok this is ciao raga a presto vi voglio tanto bene grazie ciao raga vi voglio tanto bene davvero è troppo difficile chiudere questa diretta è troppo difficile però devo anche chiuderla grazie a tutti veramente ciao ciao